Sono diverse le denunce presentate dai cittadini e i carabinieri della tenenza di San Cataldo in cui hanno raccontato di avere prenotato le loro vacanze in un'agenzia di viaggio sancataldese senza poi di fatto avere potuto godere la propria villeggiatura. Dalle denunce raccolte dai militari sembrano emergere episodi collegati dallo stesso filo conduttore. I clienti si sono recati in agenzia, hanno prenotato il loro viaggio ma poi delle prenotazioni non c'era più traccia. Il tutto sempre secondo quanto raccolto finora dagli investigatori dopo avere anche sborsato i soldi necessari. Comprensibile la rabbia e la delusione degli utenti che sognavano la loro vacanza e hanno poi scoperto che sarebbero rimasti a casa. E adesso saranno le indagini dei militari a chiarire che cosa sia effettivamente accaduto.